ciao a tutti voi ragazzi qui sono SylvesterJ e oggi siamo su FIFA 15 con il nostro bellissimo Real Madrid e faremo il mio 8 di vision 1 che anche se è impossibile che tra pochi giorni incomincia FIFA 14 però non fa niente si incomincia trovo giusto giusto tramite i due giorni ma non mi interessa perché io voglio fare il mio 8 di vision 1 per voi su FIFA che come avete visto su PS ho fatto cagare e quindi su FIFA guarda cioè su FIFA mi trovo meglio ci vedete era goal era goal ok benissimo ragazzi si allora partiamo subito con Bale che la passa Carvajal che perde subito palla ragazzi e quindi Pepe non va neanche addosso ok Pepe passa Bale il Real può andare alla rimessa laterale si alla rimessa laterale di tuo padre Pepe Sergio Ramos Cristiano Ronaldo oh Cristiano Ronaldo no Cristiano oh la tiene ancora non è vero è un fallo è un fallo leva leva levandoski no ragazzi ragazzi vi ricordate Dio casiglios no è bellissima ragazzi è bellissima bellissima ok no 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 attenzione tiro centrale assolutamente comodo per il portiere James 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 sta davvero un alto sta davvero un alto dio Oddio Cas Bale No ragazzi è stato bellissimo Io prenderò di sicuro FIFA 16 Oh non mi frega FIFA 16 Ma no ragazzi No questo quello è stato bellissimo Voglio un like per questo cosa subito Avete messo like Avete fatto bene Bale Oh si riparte anche con Bale Si riparte anche con Bale Ragazzi si riparte anche con il tiro Dovevo crossare No ragazzi Non sono ancora sconvolto per questo Quello che ho fatto con Bale No ragazzi è stato bellissimo No 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 Quasi no E' felice che ricordo Cosa ghiassa Ma muozi No 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 è stato una merda Guarda se schifo Tipo C'è ma casiglia Se ha le mani a PAPE Oh Harri 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 Andando per il rigore No ragazzi Non guarda Ma dai che va a finire come la partita su PES Che recuperiamo I ricordi sono sempre una sfida di nerdi Tra chi calcia Oh Il tunnel di Bale No Il Bayern è il cornuto Oh Ronaldo Ronaldo la skill Il tunnel di Bale Noo no no Marcello No Bale Pallo fischiato al giocatore del Real Madrid Sarà punizione E' felice che ricore Il script del 45esimo Non è almeno fuori gioco questo Alla faccia vostra Io le dicevo ragazzi stiamo recuperando Contro il real di mamme Quello non era fallo No 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 Che stiamo chiedendo Oddio Oh cristiano Quello non è fallo Oh le skill No no Iar Stazzo No 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 Si 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 No le va Oh madò che avevo visto Sì, stai, stai. Ottimo tiki-taka. Palla che finisce oltre a linea di fondo sarà rimessa. Qui possiamo rivedere l'azione precedente dalla quale è nato il gol, ovviamente da diversa inquadratura. Ho ripreso. Ho ripreso il video. Non posso rilasciare. Fuori di poco. Pepe. No, ma perché... 5 minuti di ricoperta. No. Pure fallo, ma no. No. Cazzo. Questa l'abbiamo persa. La seconda partita come vera, scusa. Ok. Ok. Modric. Qui in questa partita voglio che fai meglio. Guarda quello. Beh, iniziamo questa bella partita. Real Madrid contro Real Madrid. No. Mi si è buggato. Oddio. Gareth e Ile. C'è il primo fallo che non lo dà, arbitra di merda. C'è il tocco sulla fascia. Eh no. Obame e Mango. No. Oh, e chi c'è sulla fascia? Chi c'è sulla fascia? Oddio. Guarda chi si chiude. Cristiano Ronaldo. Ok. E la sua mi si è buggato. Non è Borussia Dortmund, ma è Real Madrid. Real Madrid. Ver труд. Hanno provato a sfondare per via centrali ma sono stati fermati. Mapepe. Allentando la pressione sulla difesa. Fuori gioco. Fuori gioco per Cristiano Ronaldo. Cristiano... c'è ma scusa ah è dicevo che è fuorigioco no marconino marco royce no il carca si chiassa ecco adesso l'ha aggiustato e quindi capisco chi sta in casa c'è io non è bello sono loro in casa no ho fatto una stunza due minuti di recupero no bravissimo pepe no è ramos in attacco no madri no madri no madri no madri no madri no madri oh ma se si è aperto un barco un barco rodriga no madri no madri no madri no madri pensi ma non ce la faremo mai più no madri no madri ok Ok Cristiano Ronaldo è partito Cristiano Ma tu Madonna mia Madonna Tio Ma Bitti che ci fa in difesa Ok Ci stanno andando il partito E' un ottimo tiro No Marcolino Marco Reus No Kagawa C'è Kagawa E no Attenzione al tiro Ecco il gol No 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 E' così E' così Ma che schifo di gol Ma 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 Ok Garrett E' partito E' partito No No Ah Ah Cristiano Ronaldo Ha un ottimo team E' il periodo Luca Cristiano No Ah, no Oh Ronaldo, Ronaldo regala cingoli No, raga, raga la tiro Raga la tiro, non mi interessa Cristiano Ronaldo Arriba dunque il fisco dell'arbitro Gara che finisce 1 a 0 Bene ragazzi, questo video E' finito Guarda si per essere Jay, è tutto Ci vediamo la prossima partita Del rotto di disimulare Ciao Ciao